Ancora un misterioso attentato incendiario a Taranto a tre giorni di distanza da quello avvenuto nell'area di esposizione di una concessionaria quando furono distrutte due vetture. Stavolta il rogo, quasi certamente doloso, si è sviluppato in Viale Virgilio. È stata data alle fiamme un'auto di valore, una Porsche Macan, che sarebbe in uso a persone riconducibili alla società della concessionaria di auto presa di mira nella notte tra domenica e lunedì. I luoghi dove sono avvenuti due attentati non sono distanti, ma oltre alla rapida successione degli eventi c'è un altro rilevante particolare al vaglio degli inquirenti ed è che la concessionaria di auto sarebbe la stessa nella quale il 22 gennaio scorso si recò chiedendo di effettuare un giro di prova con una Porsche l'ex guardia giurata Panteleo Varallo, di 42 anni, l'uomo che prima avrebbe tentato di possessarsi dell'auto e poco dopo sparò in Viale Magna Grecia con una pistola calibro nome e una decina di colpi verso due poliziotti della volante Ferendoli. Gli investigatori della squadra mobile in queste ore stanno vagliando tutti i possibili nessi tra i tre episodi verificando se il fatto del 22 gennaio abbia eventualmente dato la stura ai due successivi in termini intimidatori al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.